Nonostante i tanti lavori di restyling che hanno interessato nei mesi scorsi la stazione ferroviaria di Agropoli rendendola confortevole e arricchita di servizi importanti, ad oggi purtroppo si registra che l'ascensore per disabili non è funzionante. A segnalare attraverso una nota stampa il consigliere di opposizione del comune di Castellabate Luigi Maurano che ha inviato una missiva alla direzione di rete ferrovie italiane. Il 30 gennaio 2018, scrive Maurano, un articolo annunciava che erano in via di completamento ai lavori di restyling dello scalo ferroviario di Agropoli-Castellabate. Trenitalia ha effettuato lavori migliorativi come i marciapiedi della banchina, l'ascensore per disabili e i tornelli. Oggi sicuramente la stazione di Agropoli-Castellabate è migliorata nell'aspetto estetico ed infrastrutturale, pur sussistendo ancora carenze di posti auto, dato però non imputabile a Trenitalia. C'è però ancora una mancanza importante, sottolinea il consigliere. Infatti molti utenti hanno segnalato il non funzionamento dell'ascensore e la conseguente difficoltà d'accesso per le persone con disabilità o impedimento anche momentaneo. Stiamo parlando di una delle stazioni più importanti del Cilento, che abbraccia un'ampia zona e che vede l'utilizzo di molti utenti. Inutile sottolineare come il numero di questi aumenti vertiginosamente nel periodo estivo, date le molte segnalazioni ricevute in questo ultimo periodo, ho presentato, conclude Maurano, richiesta ufficiale alla Direzione Territoriale delle Reti Ferrovie Italiane e alla Direzione Regionale Campania di Trenitalia affinché si attivino per rendere funzionante l'ascensore in modo da rendere pienamente accessibile e innovativa la stazione di Agropoli Castellabate.